I trattori li abbiamo visti passare prima adesso attenzione bambini di restare ai lati della strada perché è un po' più pericoloso non è mai successo niente ma bisogna stare un po' in ordine i trattori andranno avanti e fino a via i trattori mi diventeranno un po' più particolare e questo è un po' più iniziale a conclusione della serata è solo che potete visitare sempre la mostra artigianale e poi c'è anche la serata di Liscio con Stefani Nevada sempre all'interno dell'area Spettacoli si è avvenuto la stessa la strada di tutti e questo è un po' più iniziale e questo è un po' più iniziale e questo è un po' più iniziale Siamo arrivati con i trattori, i migliori trattori, provenienti un po' da tutta Italia, il campo d'oro compreso, il campo d'oro, i trattori, i aiutatori di percorso, il vigneto, cominciamo con la Carraro, Zoom per Carraro, a 10 minuti, a questa, non so, adesso ci siamo, ma ora è la quarta, Grazie a tutti. 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 Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. 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 Andiamo.